Grazie. Cominciamo a continuare a dare tutte queste informazioni perché sono due notti che non ci dormo. E ora ci arrivo, non ti preoccupare. Allora, innanzitutto ringrazio davvero di cuore questi amici e colleghi, se così posso definirli, per i complimenti, sono davvero commosso. E quindi non voglio perdere troppo tempo, ma io ho preparato una breve presentazione da farvi vedere per farvi capire un po' il cuore del libro, il ragionamento che poi mi ha portato a scriverlo. È un libro ironico che viene confezionato apposta per appassionati e non di calcio, perché comunque può essere letto tranquillamente anche da chi non ha molta dimestichezza con questo sport. Anche perché, mi sono detto, tutti ricordano molto facilmente i grandi campioni. È facile ricordare Maradona e Pelé, Messi e Kakà, Buffon e Cannavaro. È molto più difficile invece ricordare chi non è riuscito a sfondare in qualsiasi campo. È giusto, però, come ho detto anche nel libro, il calcio, così come può essere il mondo dello spettacolo, è popolato oltre dai grandi campioni anche da personaggi magari oscuri, ma che rendono questo sport tanto affascinante quanto irresistibile. Per questo, ecco, vi comincio a presentare il libro, la copertina, che prende un po' lo spunto, è molto ironico e molto divertente, perché è un giocatore di subuteo che di fronte a tale scempio decide di andarsene, di lasciare il campo. E' molto pregnante, cioè, credo che renda subito l'idea. Si tratta di 90 profili di giocatori che, come abbiamo citato nel riepilogo, ripercorrono l'infausteggesta di calciatori o presuntitali, perché in alcuni casi si è trattato anche di gente che forse non aveva molta dimestichezza, ma che ha tentato di strappare un ingaggio al presidente di turno. Incompresi o sfortunati, perché comunque sono capitati dei grandi campioni, come possono essere stati Bergkamp o Rush, che sono venuti in Italia dietro grandi fanfare, ma alla fine non hanno concluso granché per tante ragioni. Campioni sulla carta e disastri in campo, dal 1980 all'anno della riapertura delle frontiere. La casa editrice, la Piano B Edizioni, che è di Prato, si tratta di una serie di... sono molti ragazzi che io ho conosciuto personalmente, hanno molta voglia di fare, sono molto seri, avrebbero voluto venire ma sono stati impegnati, e mi hanno detto, hai carta bianca, puoi dire qualunque cosa anche a nome nostro, quindi per quello godo della loro tuttale edificia come loro godono della mia. Sono riuscito a farmi fare la prefazione da Ivan Zazzaroni, che anche a lui avrei voluto invitarlo, anzi l'ho invitato, ma l'otto di questo mese è partito per il Sudafrica, per seguire i mondiali, e io gli ho detto se mi lasciava qualcosa da dire, lui mi ha detto solo una frase, pippe si nasce, bidoni si diventa. Con questo io capisco che lui ha sposato in pieno l'atmosfera che può dare questo libro.